Sono Luca Pancalli, attualmente presidente del Comitato Italiano Paralimpico, per tanti anni atleta paralimpico, prima ancora atleta della Nazionale di Pentatron Moderno, poi per un incidente sportivo sono divenuto atleta paralimpico e oggi dietro una scrivania, una storia poco interessante e poco importante. Luca Pancalli è sempre stato un malato di sport, ma sin da piccolino, un po' probabilmente complice il fatto che la mia famiglia, per tutti e tre i figli, sia con me, con mio fratello e mia sorella, probabilmente hanno utilizzato lo strumento dello sport anche con una funzione educativa, formativa, di crescita, quindi non soltanto per imparare a nuotare, che è la parte canonica che tutti i genitori magari dedichiamo, alla quale dedichiamo attenzione per i nostri figli. Quindi tutti e tre, insomma, sia mio fratello maggiore e mia sorella minore, siamo stati avviati allo sport, abbiamo iniziato a fare sport a livello agonistico, ho avuto un mio fratello campione italiano assoluto nel nuoto, mia sorella anche come nuotatrice. Io ero un modesto nuotatore, per cui a un certo punto stanco di fare un po' la lepre per i nuotatori più forti, perché così venivo utilizzato nella società dove praticavo l'attività natatoria, che poi è diventata famosa all'Imperi d'Omar, nel quartiere dove abitavo, ho voluto cambiare e lì passai dal nuoto al pentaton moderno, una disciplina che per un giovane, come dire, è un piccolino, un ragazzino, era molto affascinante l'idea di cimentarsi su discipline tanto differenti ma nello stesso tempo anche divertenti, quindi uscivo dalla monotonia del dover contare le mattonelle ore e ore per approdare a una disciplina sportiva dove accanto al contare mattonelle per il nuoto però univa la scherma, il tiro a segno, l'equitazione, la corsa campestre, poi mi sono reso conto che sono caduto dalla padella nella brace perché il nuoto era faticoso come nuoto agonistico e il pentaton moderno era massacrante. Nel pentaton moderno poi ho raggiunto i miei sogni di adolescente sportivo, cioè che sognava di poter diventare un campioncino, un campione, una parola grossa, quindi di poter vincere i primi campioni italiani in categoria, ho vinto diversi campioni italiani in categoria, fino ad arrivare ad essere considerato una promessa del pentaton moderno tant'è che entrai in nazionale, in un gruppone della nazionale che era fatto dai veterani, da quelli che poi hanno reso celebre il pentaton moderno per quanto ancora oggi sia poco conosciuto e me ne dispiace perché è una disciplina straordinariamente bella, Daniele Masala, Carlo Massullo, Pierpaolo Cristofoli, Petroni e noi c'era il gruppetto dei giovani, diciamo della nazionale B, chiamiamola così, che era quella che seguiva a ruota e dove eravamo 4-5 ragazzi che in qualche modo immaginavano un giorno di poter sognare, di realizzare quello che insomma ciascuno di noi aveva in mente, che era poi la fantastica realizzazione di arrivare ad un'Olimpiade, quindi vestire la maglia azzurra, arrivare ad un'Olimpiade e poi magari così come era successo a Daniele Masala, magari vincere come poi accadde a Daniele Masala nell'84, vincere la medaglia d'oro olimpica. Quindi a un certo punto, dopo tanti anni di duro allenamento, perché poi io passavo una vita d'inferno, nel senso che la mattina mi alzavo alle 5 e mezza, uscivo di casa alle 6, mi ricordo che in quegli anni cominciò a funzionare la prima metro A, che collegava da Cinecittà, diciamo fino a Piazzale Flaminio, quindi era una rivoluzione, parliamo della fine degli anni 70, nell'80-81 credo che la metro A cominciò a funzionare, io prendevo la prima metro alle 6.01-6.02, arrivavo a Piazzale Flaminio, poi mi prendevo il trenino, arrivavo all'acqua scetosa, entravo in acqua, in piscina alle 7.40-7.30, nuota, no, che dico, arrivavo e entravo in piscina alle 6.30-6.40, nuotavo fino alle 8-10, poi riuscivo dall'acqua, mi vestivo di corsa eccetera, con un mio amico che era compagno di nazionale e peraltro compagno di classe, con la moto di corsa, riattraversavamo Roma per essere a scuola alle 8.20-8.30, pronti per le nostre 5-6 ore canoniche di studio, uscivamo all'1.20 e alle 2 già ristavamo sui campi di allenamento fino alle 8 di sera, tutti i giorni per non dico 365 giorni l'anno ma poco ci manca. Arrivò poi la prima convocazione nazionale, giovanile, me la ricordo come fosse ieri perché io uscivo da un campionato italiano di categoria vincente dove per la prima volta facevamo anche la prova di equitazione perché l'equitazione all'epoca per il regolamento del pentadon moderno si sarebbe cominciata soltanto al compimento del diciottesimo anno di età. Però insomma siccome eravamo giovani pentatleti promettenti, noi di questo gruppetto già ci cominciavano da un paio d'anni ovviamente a mandare a cavallo, a montare e facemmo questa prima gara, ricordo ancora Passo Corese e di lì siccome andò molto bene venne convocato in questa nazionale junior per partecipare a questo meeting internazionale una sorta di campionato mondiale giovanile per junior dove per la prima volta vestì ebbi il piacere di riuscire ad arrivare all'agoniata maglia azzurra. Già stavamo nel gruppo degli atleti di interesse nazionale però un conto essere in un gruppo, allenarsi in vista di è un conto e la convocazione. Non amavo andare a cavallo, non ero assolutamente, onestamente parlando, preparato ad una competizione internazionale. Peraltro fui molto sfortunato nel sorteggio. Rimase due palline dentro un contenitore dove uno poi doveva scegliere per l'abbinamento. Me lo ricordo come fosse ieri che io infilai la mano, ero rimasto solo io, erano rimasti due cavalli di cui uno pessimo, si può capire come è andata a finire e uno invece è un buon cavallo. Mi ricordo perfettamente che io infilai la mano, presi la pallina, poi non so per quale segno del destino ho lasciato quella pallina e ho preso l'altra. Io purtroppo ho preso questo cavallo che era molto nervoso e nonostante tutto riusci quasi a fare un percorso, non dico netto perché nonostante tutto riusci ad arrivare al penultimo ostacolo con un solo rifiuto, il che era un risultato straordinario. Già sentivo i boati nel pubblico come dire, ah sto ragazzo italiano che sta facendo, io già mi vedevo scritto sulla gazzetta del giorno dopo, pancalle, straordinaria cosa. E invece probabilmente distratto, avevo 17 anni, ero pure un po' cretino nel senso che poi sai ti esalti per cose, forse se avessi avuto la maturità, una maturità diversa avrei di fronte a quell'ostacolo che stavo affrontando senza staffe perché avevo perso le staffe avrei avuto la maturità e la responsabilità del fermarmi, di tentare di rinfilare le staffe però vestivo la maglia azzurra per cui ogni secondo che perdevo era punti in meno per la squadra insomma l'esaltazione dell'uomo di sport e del ragazzo che ama lo sport in maniera forse esagerata affrontai questo ostacolo che era il penultimo senza staffe e poi dopodiché me l'hanno raccontato sembrerebbe che il cavallo si è piantato, io sono volato oltre le barriere, poi il cavallo comunque ha saltato lo stesso cavallo ha inciampato con gli anteriori sulle barriere e poi mi è praticamente rovinato addosso e lì il cap, che è questo caschetto che si porta a cavallo, all'epoca poi non erano così performanti come oggi per cui non avevano nemmeno dei sottogola che tenevano più fisso, per cui mi si è sfilato mi si è messo diciamo tra la spalla e il collo, io stavo a pancia sotto nel momento in cui il cavallo è arrivato con tutto il suo peso, mi ha fatto da leva e mi ha spezzato il collo lì poi io mi sono risvegliato sul campo di gara, muovevo tutto perché mi ricordo che mi chiedevano di muovere gambe, braccia eccetera muovevo tutto, mi ricordo perfettamente, stavamo in un'accademia militare a Wiener Neustadt o meglio in una situazione militare, non è che eravamo militari nel momento in cui mi hanno girato per mettermi sulla barella per portarmi via dal campo nell'ospedale di Wiener Neustadt mi ricordo che ho sentito un dolore lancinante al collo da lì sono passate poi 46 ore di calvario perché ero in questo piccolo ospedale di paese senza genitori all'epoca non è che c'erano i telefonini era un altro mondo, un'altra storia per cui i miei genitori riuscirono ad arrivare soltanto a distanze molto tempo perché servivano i visti, i passaporti e quant'altro nel momento in cui loro arrivarono la mattina stessa in cui arrivarono io mi sono svegliato, mi sedavano per dormire da che mi ero addormentato, che mi chiedevano ancora di muovere e riuscivo a muovere tutto anche se la gamba sinistra cominciavo a muoverla con grande difficoltà però muovevo tutto, mi rasserenavo la mattina dopo mi sono svegliato avevo sete, c'era un bicchiere d'acqua sul comodino io ho provato ad andarla a prendere e mi si è mosso più niente quindi quando sono arrivati i miei genitori purtroppo è stata la mattina nella quale la compressione midollare stava facendo i propri danni per cui stava salendo e io non muovevo più nulla da lì mi hanno trasportato a Vienna manco sono arrivato a Vienna sono entrato diretto in sala operatoria mi hanno operato e mi hanno decompresso la minectomia e tutti i termini che noi para e tetra sappiamo perfettamente di che cosa parliamo da lì ho fatto 15 barra 20 giorni in terapia intensiva e poi con un elicottero mi hanno portato direttamente al centro di riabilitazione in Austria perché l'incidente era avvenuto in Austria i miei genitori hanno preferito che io continuassi a essere riabilitato in Austria anche perché mio padre nel frattempo si era informato sulla situazione italiana e la situazione italiana non era brillante in quegli anni per la riabilitazione e anche i fasti di quella che era stato un tempo Ostia il centro di Ostia dell'Ineil che nel frattempo era passato al servizio sanità pubblica le ASLE e quant'altro non erano più i fasti di un tempo ma la situazione era ben diversa Ostia per cui decisero di lasciarmi in Austria e forse lì fu in parte ebbe un grande aiuto perché probabilmente aiutò anche questo rapporto con lo sport perché da un lato lo sport veniva utilizzato pesantemente come strumento di affiancamento ai processi riabilitativi dall'altro questo centro era frequentato da nazionali austriaci di basket in carrozzina per cui io rimasi affascinato da questi ragazzi dei quali ricordavo l'immagine a memoria all'acqua cedosa quando ancora ero sulle mie gambe e lì in questo centro di riabilitazione a Badering mi venne comunicato a distanza di una decina di giorni nel quale arrivai che non avrei più camminato o perlomeno che avrei avuto scarsissime possibilità di ricamminare me lo comunicò mia madre o meglio non me lo comunicò lo intuì perché sapevo che mia madre e mio padre avevano appuntamento con il neurochirurgo primario del centro per capire qual era la situazione da lì all'incidente era passato poco più di un mese vedevo che tardavano io sapevo l'ora in cui avevano l'appuntamento non stavamo in Italia per cui era ammissibile un ritardo di ore lì in Austria se l'appuntamento era alle 4 alle 4.01 si apriva la porta e c'era l'appuntamento vedevo che tardava mia madre e mio padre a rientrare in camera io mi ero fatto un film nella mia testa il film raccontava della storia di una madre che era scoppiata a piangere perché gli avevano comunicato che non avrei magari più camminato non sarebbe più stato quello di prima che ovviamente per darmi coraggio si era ritruccata tutta e aveva ripreso un attimo fiato magari facendo una passeggiata bevendo qualcosa, un bicchier d'acqua con mio padre per rientrare in stanza e dirmi ma no tranquillo ci sarà da faticare manco finisco di pensare queste cose che entra mia madre tutta sorridente ah no abbiamo parlato ci sono belle speranze di qua di là io lì un po' perché avevo ragionato era andato oltre e avevo 17 anni dissi guarda mamma non mi prende in giro la vita è la mia preferisco saper subito quello che mi aspetta perché altrimenti perdo tempo io sono atleta un atleta non può perdere tempo se deve programmarsi il proprio obiettivo ogni giorno, ogni ora, ogni minuto è utile per l'allenamento per cui voglio sapere subito mia madre scoppio e piangere e lì capì quello che era successo quello che mi aveva spinto a svegliarmi la mattina alle 5 e mezza per andarmi a allenare per tornare a allenare dopo scuola per continuare, per farlo il sabba, domenica non facendo sostanzialmente una vita da adolescente perché io vivevo la mia vita sui campi sportivi in una piscina, in una palestra di scherma piuttosto che in un poligono in un campo di guidazione o correndo e a quel punto ho capito che la gara più importante della mia vita a quel punto era quella per cui dovevo riaffrontare quella nello stesso identico modo con cui affrontavo la preparazione alle gare da pentatleta per cui se mi si richiedevano faccio un esempio 10 flessioni ce ne mettevo sempre uno o due in più perché dovevo mettere qualcosa in più se mi si insegnava a risalire da per terra in carrozzina e mi si cronometrava o meglio io chiedevo di essere cronometrato perché per me il rapporto col cronometro è un rapporto quasi viscerale ma ancora oggi tante cose io mi metto il cronometro ma perché sono cresciuto così per cui chiedevo che mi si cronometrasse quanto tempo ci mettevo per risalire su una carrozzina perché una volta risalito mi dovevo ributtare per terra e dovevo dire adesso ci voglio mettere di meno è quello che normalmente fa un atleta che insomma gareggia e ha un confronto con il tempo e in tutto questo devo dire che questo rapporto che ho avuto con tanti ragazzi pare tetrasustriaci che frequentavano quel centro è stato terribilmente utile prima di tutto perché poi come potete immaginare in questi centri c'era una come dire uniformità anagrafica terribile eravamo tutti ragazzi fra i 16 e i 25 30 anni insomma tutte persone molto giovani perché poi gli incidenti macchine moto motorini sci molti per lo sci ogni tanto arrivavano però vedere tutti questi ragazzi e questo centro e vedere questi ragazzi quello che facevano sulle carrozzine impennare gradini piuttosto che canestri da tre punti rispetto a mi ha immediatamente stimolato il mio spirito agonistico che è dentro di me per cui io a quel punto volevo diventare come loro volevo una carrozzina più performante volevo riuscire ad essere abile con la carrozzina come lo erano loro e da lì poi ho vissuto sono andato avanti sono rientrato in Italia e ho continuato il ritorno in piscina è stato drammatico perché per un ex nuotatore sai un conto è non corri più non ho più corso mi ricordo che ero un grande campione perché poi ero forte insomma io ho mio figlio che fa atletica leggera oggi ha l'età che avevo quasi l'età che avevo io quando ho avuto un incidente e che lo prende in giro gli dico che ha una pippa perché insomma rispetto ai miei tempi si può dire non si può dire però insomma una schiappa rispetto ai miei tempi è un conto sai non hai più un metro di confronto perché non corri più no ti ricordi quanto eri forte o quanto correvi forte il conto è il nuoto io sono entrato in piscina la prima volta è la prima volta che mi misero in piscina in ausia nel centro di abitazione da gran fico no ma a fermi mi volevano mettere i braccioli la c'è a me ma che io sono un po' un po' guasconesco no ma io sono un ex campione cioè di qua di là mi hanno come dire voluto misurare quanto fossi arrogante diciamo va bene non vuoi i braccioli mi hanno messo in piscina e io sono probabilmente andato blu 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 sott'acqua poi mi hanno ovviamente ripreso altrimenti non saremo qui a parlare e lì ho capito che la faccenda sarebbe stata più dura di quella che immaginavo poi dopodiché piano piano lì mi ci sono in caponito tant'è che poi il nuoto è diventata la mia disciplina paralimpica dove dove ho avuto i migliori successi e piano piano ho capito che dovevo mettere a frutto tutto quello che avevo imparato per tanti anni in una piscina cambiare come dire non tanto acquisire un'acquaticità nuova ma cambiare anche modelli di trazione in acqua no modelli di bracciata per adattarli a un nuovo assetto del corpo un po' come una barca che a un certo punto non ha più l'assetto lineare perché magari affonda un po' dietro eccetera quindi ho dovuto modificare e mi sono messo a studiare proprio a studiare sia tecnicamente sui libri sia provando poi in acqua tutte queste nuove metodologie che mi hanno portato ad un'acquaticità nuova e poi ai risultati che mi hanno portato il distacco dal centro di riabilitazione ritorno alla vita reale è stato pesante ma credo che forse di questo non ho mai parlato con tanti miei amici strano in tanti anni forse lo è per tutti perché a un certo punto nel centro di riabilitazione ti senti protetto in fondo è come un luogo protetto dove tutto è a tua misura la sensibilità di coiunque opera e lavora là dentro è smisurata per cui non hai problemi dall'uscire con l'infermiera piuttosto che con la barista del bar andare a mangiare la sera perché sono abituate a avere rapporti perché convivono con ragazzi in carrozzina per 365 giorni l'anno ma piuttosto che anche tutti gli esercizi commerciali nel paese a Badening erano tutti abituati per cui sai l'abbandono del centro di riabilitazione è stato un momento doloroso per me era come poi dopo tanti mesi io sono stato sette mesi diciamo un mese mediamente venti giorni nell'ospedale a Vienna e poi sei mesi e mezzo nel centro di riabilitazione è un pezzo di vita si creano affetti si creano amicizie un po' come le amicizie al fronte quelle amicizie dove tra di noi magari passavamo le serate in cantina questo bar che noi chiamavamo cantina a bere birra nei momenti più brutti dal punto di vista anche del 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 vissuto perché poi io racconto così ma insomma non è semplice passano le giornate in cui le passi a piangere e a chiederti o a chiedere al Padre Eterno perché proprio a te questo l'abbiamo 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 detto tutti l'abbiamo fatto tutti passiamo queste serate a bere birra in maniera pure piuttosto smisurata e come un po' al fronte magari non parlavamo la stessa lingua perché c'era il ragazzo che non parlava inglese piuttosto che però ci capivamo con gli occhi quindi lasciare una un pezzo di vita un pezzo di famiglia perché si crea una comunità familiare non è non è semplice ovviamente hai la gioia di tornare a casa hai la gioia di tornare nella tua casa nel sentire i profumi della tua casa il profumo del sugo cucinato da tua madre piuttosto che l'odore proprio gli odori che non sono più quelli dell'ospedale del centro di abiezione ma sono gli odori a te familiari quelli con i quali sei cresciuto il profumo del salone piuttosto che del bagno pulito piuttosto che di tua madre quando pulisci i vetri io ancora oggi dagli odori quando si taglia l'erba in un prato mi ricorda quando correvo perché quando andavamo a correre il profumo dell'erba era una cosa che nell'ansimare della corsa ti penetra dentro ma ti arriva fino al cuore più che nella parte olfattiva quindi il ritornare a casa sicuramente era una cosa che tutti noi ambiamo a fare poi ti rendi conto che abbandoni un pezzo di famiglia dove tutto era facile perché tutto era facile tutto era a misura nostra e vieni catapultato nella realtà vieni catapultato nella realtà dove il tuo portone di casa c'ha un gradino poi ce ne stanno altri due e poi l'ascensore non entra e poi il bagno va modificato perché nessuno poteva prevedere che il bagno di casa ci dovesse entrare una carrozzina quella miriade di piccoli grandi grandissimi problemi che pur soppo rendono una vita difficile però pure là a un certo punto bisogna staccare a un certo punto bisogna avere il coraggio di rimboccarsi le maniche e capire che la vita non è quella in un centro di riabitazione la vita reale è quella con le difficoltà quelle che poi ancora oggi incontriamo incontro e che purtroppo devi affrontare per cui insomma rientrai in Italia ma anche lì ebbi un grande insegnamento da mia madre perché la prima cosa mia madre mi disse nel momento in cui rientravo dentro casa ancora non avevo messo le rotelline davanti in salone mi bloccò e mi disse guarda non pensare che siccome stai seduto su quella sedia sei diverso dai tuoi fratelli quindi le regole che valevano prima parranno anche domani quindi nei limiti ovviamente di quello che puoi fare ti devi mantenere in ordine la tua roba piegarti i tuoi vestiti rifarti il letto se ci riesci e tutto questo e lì fu un grande insegnamento perché per prima mia madre non fu certamente con lei che mi mese in una campana di vetro anzi fu forse nei miei confronti molto più dure esigenze esigente e ha preteso molto di più dopo che non prima sia nella scuola che nel mio percorso di recupero io considero questo incidente quasi fosse un incidente di percorso dove probabilmente doveva andare così doveva andare così perché tutto poi mi ha portato in quella direzione voi pensate che addirittura un po' di settimane prima di partire forse 3-4 settimane io venni malmenato da un gruppo di come dire simpatizzanti di destra quegli anni erano gli anni in cui ancora c'erano le scodate tra ragazzi di sinistra che venivano da licei di sinistra rispetto ai licei considerati neri eccetera io mi ricordo che venne malmenato solo perché indossavo un eschimo peraltro uscendo dall'acqua cerosa chi conosce Roma e il centro dell'acqua cerosa sa l'umidità che ci sta in questa zona di Roma per cui era un'esigenza al di là del fatto che poi sicuramente ero uno di quei ragazzi che certamente non frequentava gruppi di destra ma probabilmente aveva amici però io mi dedicavo allo sport poi potevo essere più o meno interessato alla politica in parte lo ero ovviamente in un ambiente di sinistra perché venivo da un liceo di sinistra però lungi da me dal volermi identificare attraverso un abbigliamento eppure quell'abbigliamento per colpa di quell'abbigliamento fui fermato e venne malmenato in maniera pure piuttosto brutta perché insomma ero a terra prendendo calci all'epoca giravano questi stivali che avevano i ragazzi di destra i frai si chiamavano i camperos con la punta tagliata che veniva rinforzata con delle cose di ferro presi tante di quelle botte che non vi dico e in quella colluttazione relativa colluttazione io ero la vittima e subivo non c'è stata alcuna colluttazione anche perché erano numericamente superiori persi il portafoglio con il documento con la carta di identità valida per l'espatrio e non era come oggi che vai e la rifai in un giorno era un problema serio perché dico tutto doveva andare in un certo modo perché io ho trovato l'unica persona onesta probabilmente che di fronte ad un portafoglio mi ha telefonato e risalito eccetera e mi ha riconsegnato il portafoglio compresi le lire all'epoca ancora le lire c'erano che avevo dentro quindi evidentemente il destino ha voluto che io riacquisissi pure quella carta di identità che era necessaria per poter partire e andare in Austria quindi vedi alla fine tutta una serie di coincidenze tre mesi prima sempre nell'81 era l'anno internazionale dell'handicappato nella sciatteria terminologica si parlava di handicappati all'epoca e nell'anno internazionale dell'handicappato qui a Roma si tenne un grande meeting internazionale di sport praticato da ragazzi e ragazze disabili mi ricordo ancora perché fu l'anno in cui il canadese Bolt con una gamba solo fece rumore perché saltò due metri zero quattro e per cui all'epoca due metri zero quattro li saltava la nostra Sara Simeoni per cui misero a confronto queste due straordinarie prestazioni e mi ricordo che all'acqua cetosa giravano tanti ragazzi stranieri in carrozzina italiani perché l'acqua cetosa ovviamente con le proprie foresterie i propri impianti era anche un punto d'appoggio rispetto alla manifestazione e io mi ricordo che eravamo lì ad allenarci perché io praticamente vivevo all'acqua cetosa e vedi questi ragazzi che giravano per l'acqua cetosa in carrozzina e fui piacevolmente colpito da questi fisici spesso possenti larghe spalle forti muscoli ma nello stesso tempo fui colpito anche ero un ragazzino di 17 anni anche da altro dal timore che ho avuto rispetto ad una condizione tant'è che talmente colpito che provai a vestirmi dentro lo spogliatoio non mi ricordo se avevo finito l'allenamento di schermo piuttosto che di corsa mi stavo rivestendo e provai a vestirmi non muovendo le gambe infilandomi i pantaloni eccetera mi ricordo perfettamente che entrò Daniele Mas dalla porta e diceva ma che stai facendo infatti non si sa mai nella vita che scherzi gli scongiuri che davanti alla telecamera non si possono fare ma che in ambiente maschile si fanno tornando a casa ero rimasto totalmente colpito da questa immagine di ragazzi che provai a muovermi per terra nella mia camera dove c'era la mochetta non muovendo le gambe entrò mia madre e disse ma che stai facendo non si sa mai nella vita era molto più prossimo dei tre mesi che ho detto forse mi sono sbagliato perché dopo tre giorni io sono partito e sono caduto a cavallo quindi alla fine evidentemente ci sono tutta una serie di circostanze della vita e la vita deve andare in una certa direzione probabilmente se non avessi recuperato quel documento probabilmente non sarei partito probabilmente non sarei colpo a cavallo probabilmente mi sarebbe successo qualcosa dopo non lo so però io oggi lo ritengo a distanza di tanti anni oramai sono quasi trentacinqu'anni che mi è successo un fatto della vita un fatto della vita perché è da doloroso difficile da affrontare oggi ho molto metabolizzato ho esorcizzato il fatto di essere sempre protagonista in prima persona di battaglie sia sul fronte come dire socio-politico per la disabilità sia soprattutto per quello sportivo che è il mio mondo forse mi ha portato anche a normalizzare tutto un processo però di fatto la considero ancora oggi una cosa che doveva andare così e è andata così fu mia madre a cercare proprio Antonio Maglio perché ovviamente mia madre subito dopo l'incidente aveva innescato un meccanismo a. di ricerca su tutte le tecnologie e tutti gli scienziati al mondo che avrebbero potuto far ricamminare i viaggi della speranza b. tutto ciò che potesse in qualche modo migliorare la mia condizione la mia vita c. ridarmi la possibilità di fare ciò che amavo fare per cui informatissima aveva sentito parlare di questo professor Maglio e mi ricordo che a Villa Fulvia che era vicino casa mia provò a farmi entrare per la riabitazione e le dissero guardi non c'è posto per la riabitazione eccetera lei sapeva che questo professor Maglio stava a Villa Fulvia in quel periodo e un giorno prese appuntamento andò a parlare con il professor Maglio gli fece vedere con le carte alla mano gli articoli di giornale eccetera chi era Luca Pancalli e il professor Maglio disse lo porti qui da me e mi ricordo che quando incontrai il professor Maglio la prima volta rimasi fulminato dallo sguardo di quest'uomo perché ti guardava dritto negli occhi ma ti penetrava e mi disse dice tu ami amavi far sport eri un atleta e faccio sì hanno scritto i suoi giornali un mediocre pentatleta e perché non continui e faccio ma veramente io l'atleta l'ho fatto non mi e dice no tu devi continuare qui c'è la squadra di nuoto giovedì vieni e devi ricominciare io mi ricordo che all'inizio un po' con un po' di perplessità perché poi la vicenda del nuoto nella piscina del centro di abitazione un po' ero caduta in depressione perché avevo lasciato il mondo ideale del centro di abitazione ero atterrato sul mondo reale dei problemi per cui un po' di depressione e di incazzatura di sana incazzatura nei confronti della vita mi era venuta fuori sai fino a che stai in un centro di abitazione rimane sopita perché in qualche modo sei talmente preso da 3.000 cose che devi fare che rimane sopita quando ti rendi conto che ti sei sganciato quel cordone ombelicale tra te paziente e te cittadino si è definitivamente reciso e oggi sei un cittadino che però sta in una condizione diversa è lì il momento difficile è lì il momento che prendi lo schiaffo perché ti rendi conto che la vita intorno non è rose e fiori come in un centro di abitazione per cui stavo in depressione e devo dire che questa come dire quest'amo lanciato dal professor Mario lo raccolsi mi presentai in quella piscina e poi da lì è andato tutto io a quel punto ho cominciato quel percorso che mi ha portato ad essere un atleta ho cominciato a nuotare ho cominciato a studiare a capire come dovevo modificare un po' quello che dicevo poche anzi i miei modelli di trazione piuttosto che nello stile libro piuttosto che nel delfino rano al dorso ho cominciato a capire che insomma forse potevo nuotare bene ho ripreso a nuotare all'epoca esisteva questa federazione italiana sport handicappati nella sciatteria terminologica ovviamente di quel momento storico e mi ricordo perfettamente che a un certo punto hanno passato sei mesi insomma poi sai uno che sa nuotare e che nuotava a un certo livello ho fatto presto a recuperare nonostante nuotassi senza la battuta la propulsione delle gambe anche perché chi sa nuotare veramente sa perfettamente che a parte le gare di velocità dove se non hai una propulsione incredibile che è importante nelle gare ad esempio di fondo voi vedete nuotare i nuotatori normali le battute le gambe sono relativamente imponenti detto questo partecipai alla mia prima garetta che purtroppo il fato e il destino volle si disputava proprio nella stessa piscina dove io mi ero allenato per una vita come pentatleta e allora rientrare lì è stata duro quello è stato un momento brutto della mia vita sportiva perché rientrare nella stessa piscina dove avevo calpestato la doccia piuttosto che lo spogliatoio con i miei piedi in un ambiente a me familiare dove dal custode oh Luca cioè non è stata semplice non è stato assolutamente semplice mi ricordo che in questo ambiente dove erano tutti questi ragazzi disabili ma io che ci sto a fare qua ma io ero un atleta ma questa è una parvenza del sport questo mi sembra il circo cioè non mi vergogna a dirlo perché poi bisogna passarci sulle cose poi se hai 17 anni cioè non ce ne hai 50 mi sembrava veramente una cosa svilente no? per cui mi sentivo proprio non a mio agio però oramai ce l'ho andato io nella vita sono abituato ad affrontare gli ostacoli e mi ricordo che i giudici di gara addirittura mi si ricordavano per cui anche quello lo trovavo a mortificazione che mi vedevano su una carrozzina qualcuno lo vedevo che si asciugava la lacrima e si girava per non farmi vedere perché mi avevano cronometrato frina a sette mesi prima da nazionale di pentadon moderno quindi non è stato semplice per me ma anche per loro immagino per il mondo dello sport che mi conosceva poi sono entrato in acqua e ho fatto sta caretta mi ricordo molto mortificante 25 metri che per un nuotatore insomma e ho perso e lì ho capito che lo sport è sport e lì ho capito che per vincere non basta essere stati dei grandi campioni quando avevi due gambe che anche nello sport praticati a persone disabili bisogna allenarsi bisogna prepararsi e di lì ho cominciato ad allenarmi come mi allenavo prima io mi andavo allenare la mattina prima di andare di cominciare lo studio per l'università nel frattempo avevo fatto la maturità l'anno seguente esattamente uguale e volevo essere da stimolo ai miei compagni di squadra del Villa Fulvi all'epoca per far capire che a prescindere dalla nostra condizione lo sport va affrontato in maniera seria e in maniera professionale non da professionisti ma professionale quindi se tu vuoi fare sport e vuoi raggiungere certi obiettivi e vuoi che gli altri ti vedano come un atleta devi essere professionale devi far capire che noi ci alleniamo tutti i giorni io comincio a allenarmi tutti i giorni tre ore al giorno la mattina prima di cominciare gli studi o di andare all'università proprio per raggiungere degli obiettivi e comunicare al mondo intero che anche noi facciamo sport non per diletto ma perché raggiungiamo degli obiettivi e da lì tutta la mia vita da atleta diciamo praticante da dirigente poi è stata come dire improntata a questo da un lato a far capire che i nostri atleti noi atleti all'epoca siamo atleti con la maiuscola e non potete giudicarci da come voi leggete la nostra prestazione ma dovete andare e calarvi nella nostra prestazione e capire che cosa c'è dietro la nostra prestazione perché è chiaro che la mia prestazione 100 stile non sarà mai potuta essere come quella del campione del mondo olimpico e magari qualcuno farebbe sorridere il tempo che noi facevamo alle paralimpiadi rispetto a quello parametrato a un atleta olimpico ma un tecnico che sa come si nuota sa qual è l'acquaticità che tu puoi avere in acqua sa come quanto incide il tuffo piuttosto che la spinta al bordo vasca sa valutare quel risultato tant'è che io mi ricorderò ancora che quando i principali detrattori della nostra attività erano i giornalisti che definivano le nostre le olimpiadi del cuore del coraggio una cosa di un pietoso unico invece quelli dai quali mi venivano gli incoraggiamenti erano i miei ex compagni di squadra magari nuotatori che non conoscevo che incontrammi ma lo sai che hai fatto un tempo via a pensare senza tuffo senza spinta di gambe eccetera lo sai cioè chi conosceva il nuoto sapeva apprezzare quello che facevamo quindi io da quel momento dalle mie prime gare in Italia poi seguire fino a tutte le gare all'estero ho tentato di comunicare in primis a me a ricordarmi che dovevo essere un atleta prima nella testa e poi in quello che facevo secondariamente comunicarla agli altri e aiutare gli altri a vedere in me un atleta e non una persona disabile quindi nei comportamenti nella serietà nell'avere un'alimentazione nell'andare a letto presto cioè tutto quello che fa di un atleta un atleta con la maiuscola e da lì ho improntato tutta la mia vita sportiva ed ebbe il mio primo incontro con le gare internazionali io nell'83 quindi a due anni di distanza all'incidente venni convocato in nazionale la seconda convocazione in nazionale questa volta come nuotatore paralimpico per andare a Stockman io diciamo che nella mia vita ho avuto la fortuna di aver vissuto gli anni di passaggio usando un'immagine dal bianco e nero al colori ho avuto la fortuna di vivere il prima quello che poi raccontano vecchi atleti che io con i quali ho condiviso delle paralimpiade Uber Sala piuttosto che Loi che poi purtroppo è scomparso ma tanti altri Carlo Di Giusto io Carlo Di Giusto ci siamo conosciuti nell'83 a Stockman ancora prima della paralimpiade 84 ovviamente eravamo tutti più giovani noi insomma abbiamo avuto paradossalmente la fortuna di vivere il romanticismo straordinariamente forte di quei momenti dove eravamo una famiglia una squadra dove sapevamo quello da qui venivamo come sapevamo qual era il nostro obiettivo nel comunicare al mondo intero che dateci l'opportunità di essere valutati per le nostre abilità che in questo caso sono abilità sportive ma sono pur sempre l'esasperazione dell'abilità residua che noi abbiamo e vi dimostriamo che siamo degli atleti ma guardateci come degli atleti e Stockman vi lebbe questo primo ai giochi internazionali dell'83 incontrai personaggi che hanno fatto la storia insomma che magari poi sono usciti di scena prima di me io ero un bambino avevo 18 anni all'epoca 19 c'erano persone che stavano molto più avanti a me il povero Fabio Amadi che poi è scomparso nel tiro con l'arco Giuliano Coten nel tiro con l'arco ma tanti altri adesso non molti nomi mi sfuggono ma fanno diciamo rimangono indelebili nelle pagine della storia di questo movimento e lì capì quanto ancora c'era da fare quanto era il pressappochismo del mondo internazionale italiano nei confronti del mondo della disabilità declinata nel mondo dello sport capì che erano proprio due mondi io che venivo dal mondo dello sport degli abili rispetto a disabili proprio eravamo disabili ed era giusto che ci considerassero disabili a quel punto un pressappochismo generale ma che era normale per i tempi e da quel momento per questo dico ancora più sia da atleta che poi da dirigente ho voluto aiutare questo movimento a uscire da quell'angolo di pietismo nel quale in qualche modo vuoi o non vuoi eravamo cacciati eravamo cacciati in quell'angolo dall'incoltura dalla non cultura dell'epoca dalla distrazione o disinteresse dei media da questi atteggiamenti solidar-pietistici della gente quindi siccome trovavo tutto questo molto mortificante io andavo in giro sempre con i pezzi di giornale a ricordarmi ciò che ero stato ma soprattutto ciò che ero oggi perché poi qualche articoletto usciva però uscivano sempre questi articoletti molto pietosi il povero ragazzo che ha perso il pentatleta che ha perso le gambe che oggi alle olimpiadi del coraggio io lo trovavo molto mortificante mi ricorderò ancora nell'88 quindi parliamo già di un po' d'anni dopo negli anni precedenti ricercavo i risultati nelle varie ogni tanto c'era handicappati e c'era scritta la cosa poi insomma piano piano mi ricordo un giornalista che io vinsi a Seul vinsi tanto vinsi bene feci dei tempi importanti pure dal punto di vista tecnico poi chi è ignorante non li sa valutare però chi nuota sa valutarli e in Italia scrissero l'eroe sfortunato eroe sfortunato quindi già mai dato dell'eroe e non mi sento un eroe mi stai dando dello sfortunato c'è chi è molto più sfortunato di me nella vita anche chi sa chi non è di sabbia o non sa di esserlo che vince alle olimpiadi del cuore e del coraggio quindi hai mortificato tutto hai mortificato un movimento hai mortificato una paralimpiade hai mortificato un uomo hai mortificato un atleta hai mortificato tutto e lì io dall'88 poi mi è scattato proprio il meccanismo che prima o poi avrei voluto incidere pesantemente su questo mondo per regalare a questo mondo la dignità il rispetto il rispetto che meritava perché noi meritavamo rispetto noi eravamo atleti che erano lì si erano preparati duramente per essere lì sia nell'84 alle paralimpiade dell'84 sia a tutti i campionati europei e mondiali dove siamo stati passando per l'88 e poi io ho avuto la fortuna di fare quattro paralimpiadi fino ad Atlanta però meritavamo rispetto meritavamo quel rispetto che ci siamo conquistati faticosamente sul campo io oggi sono contento guardando indietro i miei atleti che vengono il più delle volte insomma salvo qualche rara eccezione che ancora capita ma per carità fa parte del gioco vengono considerati atleti vengono rispettati magari hanno sponsor hanno grande attenzione da parte dei media dei giornali eccetera perché tutto quello che loro hanno oggi è perché noi l'abbiamo sognato e ci abbiamo lavorato per tanti anni a partire da chi non c'è più che ha veramente vissuto l'epoca del bianco e nero a noi che ci siamo inseriti in una parte di bianco e nero e abbiamo visto il colore nascere io mi ricorderò Giovanni Pische che forse nessuno sa che Giovanni Pische era il fondatore dell'associazione nazionale sportiva paraplegica italiana l'ASPI che è la cellula vitale dal quale nacque tutto e poi divenne FISA e poi FIS Giovanni Pische era un aviere che era rimasto durante la guerra la seconda guerra mondiale paraplegico perché con il suo caccia era caduto in mare Giovanni Pische è un uomo Maglio e Giovanni Pische a me hanno insegnato tantissimo perché Giovanni Pische è la prima persona che conobbi quando rientrai in Italia a 17 anni e mezzo insomma dopo l'incidente lui era già un uomo tutto brizzolato insomma un uomo di una certa età e mi ricordo mi disse guarda devi sempre avere rispetto di te stesso devi sempre rispetto di te stesso e ricordati di quanto può essere importante quello che fai per tutti gli altri e non solo per te e questo fu un insegnamento poi Giovanni Pische pure è scomparso già all'epoca era grande però ecco tutto quello che noi abbiamo fatto oggi vedere che i nostri atleti sono considerati così insomma un pizzico d'orgoglio ci sta il nostro è un movimento in espansione il nostro è un movimento che giorno dopo giorno si rinnova e guarda sempre con maggior coraggio al futuro nell'84 Paralimpia di Stockman perché gli americani e Los Angeles si rifiutò all'ultimo momento eravamo quattro sfigati mi ricordo era portabandiera mi sa nell'84 al fiere non mi ricordo no nel 92 sono stato portabandiera e siamo entrati in questo stadio del centro di riabilitazione di Stockman lo stadio la pista la pista la pista con ci saranno state 200 persone c'era la Lady Diana quello sì che ha come dire dato un peso alla manifestazione ma sostanzialmente eravamo veramente dei poveri sfigati non mi ricordo quante nazioni insomma dormivamo questo me lo ricordo perfettamente in delle camerate con 10 11 letto oggi i nostri atleti insomma spesso e volentieri soprattutto in gare internazionali in alberghi insomma vengono trattati un po' meglio pensate avevamo i bagni bagni accessibili fuori dall'edificio dove tornivamo cioè se malacuratamente ti scappava di dover andare in bagno durante la notte tu dovevi uscire dall'edificio quindi sotto le stelle a Londra Stockman non a Roma o a Cagliari che fa caldo e andare in una specie di bagni costruiti dai militari con degli scioli tutti in legno sembrava un accampamento militare dove tu avevi bagni accessibili quindi per far capire da dove venivamo insomma tant'è che all'epoca insomma non mi vergogno e non ci vergogniamo a dire c'era gente che aveva i pappagalli vicino al letto piuttosto che affrontare il freddo notturno insomma erano veramente la storia questa poi da lì nell'88 già ci fu il salto di qualità perché per la prima volta le Paralimpiadi si celebravano nello stesso luogo che avevano ospitato le Olimpiadi sia pur organizzate un comitato organizzatore diverso nello stesso villaggio olimpico ci sarebbe stato il bilancio Paralimpio e lì è stata un'emozione travolgente perché per la prima volta siamo entrati noi venivamo avvicinandoci allo stadio il giorno della cerimonia apertura sentiamo confusione abituati noi vecchi io l'ha pensato ho conosciuto Alvise De Viti che poi è diventato un monumento nel nostro momento e Francesca Porcellato che erano due ragazzini ma anch'io ero ragazzino perché nell'88 insomma avevo 24 anni per cui loro erano 17 anni 18 anni e mi ricordo che insomma avvicinandoci a questo stadio sentiamo tutto questo rumore ma che è questo rumore ci sarà qualcosa qualcos'altro non lo attribuiamo certo a noi a un certo punto stavamo nei sottopassi dello stadio quando siamo entrati noi sentivamo tutto questo ego sta confusione quando siamo entrati ci siamo resi conto che c'erano circa 90.000 persone nello stadio beh ragazzi cioè lì il più normale si inghiozzava qualcuno era pronto a disperarsi perché è stata un'emozione e lì ti rimane dentro perché lì a quel punto io per la prima volta con la mia carrozzina sono entrato su quella pista che poi ci ha fatto fare il giro ho detto passatemi la volgarità cazzo qui possiamo diventare degli atleti veri dobbiamo crederci dobbiamo andare avanti e da lì è stato tutto un crescendo seul barcellona ancora più grande atlanta ancora più grande dopodiché sydney fino ad arrivare a londra londra è stata l'apoteosi del nostro movimento e se voi mettete velocemente le immagini di 84 una dietro l'altra in quel racconto per immagini c'è il racconto di una rivoluzione culturale perché è vero che è cresciuto il mondo dello sport ma quanto il mondo dello sport ha aiutato la percezione di una disabilità declinata in positivo e non in negativo dobbiamo crederci dobbiamo andare avanti e da lì è stato tutto un crescendo seul barcellona ancora più grande atlanta ancora più grande dopodiché sydney fino ad arrivare a londra londra è stata l'apoteosi del nostro movimento e se voi mettete velocemente le immagini 84 una dietro l'altra in quel racconto per immagini c'è il racconto di una rivoluzione culturale perché è vero che è cresciuto il mondo dello sport ma quanto il mondo dello sport ha aiutato la percezione di una disabilità declinata in positivo e non in negativo mi considerano ancora oggi uno degli atleti più medagliati se non più medagliato dell'era moderna diciamo da seul in poi nel momento in cui si faceva un solo sport e non 10.000 sport come magari si poteva far prima perché a un certo punto la specializzazione il livello tecnico saliva per cui non potevi fare tanti sport dovevi fare uno dovevi far bene altrimenti non raggiungi i risultati io poi là devo dire che nel frattempo questa crescita del movimento sportivo a livello internazionale si accompagnava anche a delle trasformazioni italiane la federazione italiana sport amicappati poi federazione italiana sport di sabbi il riconoscimento del CONI che nel frattempo era intervenuto come una delle federazioni riconosciuta all'interno sotto l'ombrello del CONI io poi nel 96 smisi decisi di smettere anche se poi avrei potuto continuare ancora un po' perché ho sempre imparato nello sport e dallo sport è che un grande atleta è quello che sa quando è il momento di dire basta si diventa un po' patetici quando si continua a dispetto di tutti soltanto per amore sconfinato nello sport perché poi nessun atleta smetterebbe mai però io nel momento in cui ho capito su un blocco di partenza d'Atlanta dove poi insomma è andata pure molto bene come risultati che la mia testa non era più sincrona rispetto a quello che doveva fare il mio corpo perché magari volava a mia moglie che aspettava mia figlia per cui mi sono reso conto che era il momento di dire basta cioè un atleta deve sapere riuscire ad unire come in un corpo solo testa e corpo deve essere un orologio svizzero se no la prestazione non viene e proprio per rispetto a quell'idea dell'atleta che io avevo sempre voluto dare da quando mi sono fatto male a dopo anche nel mondo e soprattutto nel mondo paralimpico ho voluto dimostrare che anche nella fine nel momento in cui uno esce dall'acqua e appende il costume al chiodo nonostante avrei potuto probabilmente continuare un altro quadriennio sicuro proprio a dimostrazione che la serietà di un atleta la devi manifestare nell'inizio quando ti dice bene quando soprattutto ti continua a dar bene e ti potrebbe andar bene ma devi sapere che non è più serio nei confronti e nel rispetto per rispetto di questa grande dimensione sportiva e lì ho cominciato a dedicarmi alla mia carriera dirigenziale ma perché vedete io da atleta ho visto tante cose che non funzionavano ero un po' tra virgolette un sindacalista del mondo degli atleti perché troppe cose che non mi andavano giù per come eravamo gestiti per come eravamo considerati eccetera per cui nel momento in cui ho abbandonato ho intrapreso questa carriera sperando di portare del bene al mio movimento e mi sono posto degli obiettivi che sono quelli che poi come facevo da atleta ho voluto fare nella mia tra virgolette impegno professionale quindi tutto quello che noi non avevamo avuto io lo dovevo regalare ai miei atleti dignità rispetto considerazione se possibile anche degli strumenti non soltanto strumenti ma economici per sostenerli e soprattutto abbattere dei muri che sembrava inimmaginabile abbattere l'apertura dei corpi dello stato sportivi che era una cosa ma immaginate voi se il gruppo sportivo delle fiamme gialle delle fiamme oro della polizia piuttosto che le fiamme azzurre poteva aprire ai disabbi io quando lo chiedevo perché io sarei entrato da giovane pentatleta da lì a poco nel gruppo sportivo dei carabinieri e io da disabile in maniera piuttosto come dire forse ingenua ma non posso entrare ai carabinieri ma no ma c'è l'arruolamento tu sei handicappato perché tu sei handicappato e io ho sempre vabbè vabbè nel momento in cui sono diventato dirigente quelle cose le ho cominciato a prendere ripeto e siamo riusciti ad aprire i corpi dello stato sapete oggi che vuol dire avere una Martina Caironi una Xana Corsa con la tuta fiamme gialle piuttosto che un Alessio Sarri una Bebbo io con la tuta delle fiamme oro e sapete che vuol dire aver rotto un'altra barriera che era inimmaginabile fino a pochi anni fa ci è voluta soltanto la mia capacità nell'andare a rompere le palle quotidianamente magari ai potenti di turno per far aprire il gruppo paralimpico della difesa gruppo paralimpico della difesa non soltanto significa aver dato l'opportunità di uno strumento straordinario come lo sport per tanti ragazzi che hanno perso la loro integrità in missioni di pace o nell'adempimento del loro dovere ma significa comunicare al mondo qualcosa di straordinariamente rivoluzionario quando la parata del 2 giugno sfila negli atleti del gruppo paralimpico a difesa con le loro carazzine mezzo al centro a via dei fori imperiali ma l'epoca nostra dieci anni fa ma era immaginabile tutto questo no lo sport ha aiutato questo per questo io parlo di un movimento sportivo che è cresciuto ma accanto a sé ha aiutato un paese a crescere poi dopo di che ovviamente non voglio essere eccessivamente come dire esagerato nelle considerazioni che attribuisco allo sport perché poi i problemi del mondo della disabilità non sono i nostri problemi ben più gravi e me ne rendo conto perché li vivo l'ho vissuti sotto il profilo come dire sociale soprattutto se uno guarda i ragazzi con disabilità grave gravissima il problema del dopo di noi lo so perfettamente però lo sport è uno strumento cioè l'immagine che hanno i nostri atleti può essere utile anche a quello può essere utile a sensibilizzare anche su quello e noi siamo riusciti in un 15 anni a stravolgere un mondo a stravolgere un mondo anche dal punto di vista se volete premiare i nostri atleti oggi prendono premi in denaro così come li prendono gli atleti olimpici con misurati proporzionalmente ma sono importanti i segnali nel rispetto della loro attenzione giornalistica guardate che quando io ho approdata l'idea di un comitato paralimpico che avesse la sua dignità che avesse il suo peso specifico non ultimo il riconoscimento come ente pubblico in un paese che chiude gli enti pubblici noi siamo stati riconosciuti come ente pubblico non economico è un risultato che vabbè qualcuno dice vi siete presi il vostro pezzo di potere no noi abbiamo elevato a interesse della collettività ciò che prima era scritto soltanto a qualcosa di privato che portavamo noi il che vuol dire che domani Luca Pancali o non Luca Pancali questo movimento deve andare avanti perché è un interesse dello Stato è un ente pubblico non economico io credo che in questi 15 anni veramente tutti i tasselli che ho voluto mettere di questo puzzle che andava costruito era per dare una speranza a chi verrà dopo di noi proprio perché io so e appartengo a quelle immagini in bianco e nero so come siamo stati trattati per tanti periodi anche come atleti ma perché soprattutto dai media e non era giusto che fosse così e guardate che il fatto di aver approdato al Comitale Italiano Paralimpico ha aiutato anche i giornalisti a cambiare approccio perché oggi si parla di atleta paralimpico poi si aggiunge atleta paralimpico che ha la disabilità ma la disabilità non è più un elemento che contraddistingue l'atleta l'aggettivazione all'essere atleta esiste l'atleta paralimpico come esiste l'atleta di un mondo olimpico esiste l'atleta paralimpico ma è in declinata in positivo poi l'atleta paralimpico è ovviamente disabile ma è qualcosa che si aggiunge al rispetto della dignità dell'atleta paralimpico che è una cosa completamente diversa allora sono piccole cose e noi siamo riusciti e forse in questo un pizzico di orgoglio ma anche di come dire un massaggino dell'ego da solo ma anche con i miei collaboratori ce lo facciamo siamo riusciti passetto dopo passetto a trasformare un mondo senza che nessuno se ne accorgesse io non ho mai creduto nelle rivoluzioni nonostante quando ero giovane universitario pensavo che le rivoluzioni potessero risolvere i problemi ho sempre creduto però da quando ho cominciato a crescere nei lenti processi riformatori perché i risultati ottenuti con i lenti processi riformatori si mantengono nel tempo da quelli non si può più arretrare le rivoluzioni rischiano però di durare dalla sera alla mattina come dire la giornata di una conquista per poi perderla l'attimo dopo e io credo che se noi leggiamo quello che è stato fatto nel mondo dello sport praticato da persone disabili dal 2000 al 2016 beh dei risultati ce ne stanno tanti ma quando mai una RAI avrebbe dedicato ore e ore e ore di diretta ad una paralimpiade Londra è stato il secondo network al mondo dopo Channel 4 che giocava in casa quando mai noi mendicavamo la varia sotto handicappati per andare a leggere qualcosa quando mai delle testate di giornali avrebbero chiesto di come dire accreditarsi a un evento paralimpico come avviene oggi ma non oggi ma perché ci abbiamo lavorato tutto quello che oggi viene dato per scontato è il risultato di un lavoro certosino fatto passetto dopo passetto ruotina dopo ruotina più che passetto dopo passetto per ottenere poi il grande risultato che è quello che noi oggi respiriamo oggi e non è finita qui perché oggi abbiamo raggiunto tanti risultati adesso li dobbiamo consolidare e dobbiamo andare oltre quindi questo è quello che oggi il movimento paralimpico è io dico sempre al Comitato Italiano Paralimpico attenzione non è un modello organizzativo né una struttura organizzativa è un'idea il Comitato Italiano Paralimpico è un sentimento il Comitato Italiano Paralimpico è una missione il Comitato Italiano Paralimpico è l'essenza di un mondo della disabilità perché tali siamo che vuole dimostrare un po' quasi fosse la metafora della vita lo sport che nel momento in cui veniamo messi nelle condizioni di esprimerci quindi ci vengono date le opportunità per esprimere le nostre abilità diventiamo degli atleti metafora della vita io vorrei che nella vita di tutti i giorni fossero date adeguate opportunità nei percorsi di studio formativi universitari nei percorsi di assistenza per i disabili che avevano più gravissimi assistenza quotidiana nel sostegno alle famiglie dei gravi gravissimi per una vita indipendente per una sessualità indipendente noi siamo la metafora di quello che dovrebbe avvenire nella vita noi che facciamo in fondo mettiamo nelle condizioni i nostri atleti di esprimere al massimo le loro abilità e diventano dei grandi atleti questo deve avvenire nella vita di tutti i giorni per le persone disabili altri obiettivi ce ne sono e me ne sono già prefissi almeno altri altri due tre importanti e credo che su questi noi dobbiamo lavorare l'importante è capire che noi non siamo che noi rappresentiamo un pezzo di welfare del paese perché quello che facciamo nell'unità spinale che poi è aver ripreso il seme gettato da Maglio quando il professor Maglio nel centro Villa Marina si chiamava all'epoca ostia lanciò il seme e l'idea straordinaria di utilizzare lo sport quello che fecero condividendola con Sir Louis de Guttwan dello sport come studente di riabilitazione è quello che noi oggi abbiamo raccolto rilanciato entrando nelle unità spinali entrando nei centri di protesizzazione collina a Budrio entrando in tutti quei luoghi dove lo sport si può affiancare ai percorsi di riabilitazione con un intento che è sicuramente analogo a quello degli anni 60 degli anni 50 di Maglio ma con delle potenzialità grazie a Dio sono passati tanti anni che l'altro ieri nel mondo in bianco e nero non avevano e che noi oggi abbiamo grazie anche a una sensibilità diffusa che probabilmente grazie allo sport i giovani di oggi hanno nei confronti della disabilità rispetto a quello che avveniva nei tempi del bianco e nero ero talmente alla ricerca di rispetto della dignità che quando rientrammo dalle Paralimpie dell'84 io venne a sapere che gli atleti azzurri di ritorno da Los Angeles sarebbero stati ricevuti dal presidente della Repubblica forse era l'83 per un campionato del mondo adesso non mi ricordo bene però rimasi talmente offeso dal fatto che noi non eravamo minimamente stati considerati che presi carta e penna scrissi all'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini nella certezza che non mi avrebbe mai risposto dicendo guardi sostanzialmente ve la sintetizzo che mentre c'erano queste Olimpiadi e c'erano degli atleti azzurri che ci hanno onorato ci hanno fatto sorridere dei loro risultati ce n'erano altri che vestivano la stessa maglia azzurra che non era di un azzurro più sbiadito di quelli dei nostri colleghi Olimpici e che comunque portavano sul petto lo stesso tricolore la stessa scritta italia che comunque quando salivano sul podio vedevano sempre lo stesso tricolore sventolare ebbene questi atleti lei li sta dimenticando perché non li sta invitando e credo che invece questi atleti meritino dignità come qualsiasi atleta perché a me la nostra Repubblica insegna che tutti gli uomini sono uguali e non francamente era più lo sfogo del sindacalista che era in me del rivoluzionario che era in me però era un sfogo sincero perché io non mi sentivo qualcosa di diverso io mi sentivo un atleta che si era fatto un mazzo così un mazzetto un mazzo forse erano ancora gli anni che si arrivava però non so c'eravamo allenati tutti quanti beh rimasi sorpreso perché da lì a poco tempo mi venne recapitato da un motociclista dei Carabinieri una risposta del Quirinale in buona sostanza la sintetizzo mi dava ragione e dice dall'evento successivo in poi saremmo stati invitati anche noi e così è stato e così continua ad essere con grande riconoscimento per il nostro movimento il 22 di giugno saremmo ricevuti di nuovo dal Presidente Repubblica per la consegna ufficiale dei tricolori ai due portabandiere e da quelle battaglie oggi noi abbiamo sempre avuto due portabandiere uno olimpico e uno paralimpico che ricevono la bandiera del Presidente Repubblica che poi andrà ad accompagnare le delegazioni a una rio olimpica e una rio paralimpica e così è stato diciamo in maniera cadenzata e normale dal 2004 da Atene quindi da quelle il seme delle battaglie l'avevamo gettato poi piano piano abbiamo cominciato a raccogliere i risultati e questo guardate che è molto importante perché una crescita di un paese non è soltanto e non solo ovviamente negli aspetti sostanziali ma anche nei riconoscimenti formali perché a volte anche il riconoscimento formale è importante il Presidente Repubblica che nel discorso di fine anno cita una nostra teta paralimpica e cita non Alex Zanardi o Martina Caironi o Bebevio ma cita una ragazza con un disagio intellettivo che rappresenta l'anello fragile non debole perché io i ragazzi con ritardo cognitivo non li chiamo anelli deboli della società i deboli fragili perché sono quelli che hanno maggior necessità di sostegno e di assistenza in fondo nella casa di Ciascone noi il vaso di cristallo è quello al quale dedichiamo e prestiamo più attenzione perché è un vaso delicato che si ecco il Presidente Repubblica ha voluto dedicare una citazione ad un atleta paralimpica che appartiene all'anello più delicato del nostro mondo che è fatto dei ragazzi con ritardo intellettivo beh è un atto formale importante è un atto sostanziale che segna quello che noi stiamo facendo e quello dove stiamo andando secondo me è fondamentale fondamentale come è fondamentale il ruolo che oggi grandi campioni i nostri grandi campioni hanno ripeto ho citato Martino ho citato Bebevio ho citato Alessio Sarri Oksana Corso Annalisa Minetti Giussi Versace al di là dei risultati ma cito Alex Zanardi Alex ha avuto come dire Alex oggi per noi rappresenta una sorta di l'uomo giusto al momento giusto mi dispiace per lui nel senso che probabilmente avrebbe voluto ben volentieri non avere bisogno di essere l'uomo giusto a posto giusto ma Alex è capitato in un momento storico per noi di grande crescita di grande come dire nel momento in cui raccoglievamo le fatiche di personali di 35 anni di impegno da tre da dirigente come dirigente degli ultimi 16 anni degli ultimi 12 anni è capitato Alex a Londra e Alex a Londra è come se avesse impersonificato e incarnato e avesse dato la spinta a tutto quello che noi avevamo realizzato fino a quel momento e ci aiuta lui come qualsiasi altro ovviamente non mi va nemmeno di personalizzare e attribuire ad Alex che già di responsabilità ne ha fin troppe un eccesso di responsabilità ma tutti questi campioni che oggi parlano che oggi la gente conosce che oggi la gente ferma per strada per avere un autografo mentre noi ci chiedevano se c'era un santuario a Seul quando partivamo per Seul è cambiato qualcosa no? ebbene tutti questi atleti oggi hanno una responsabilità in più e la cosa che a me fa maggiormente piacere è quando riesco a far capire ai miei atleti impropriamente li definisco ancora miei il fatto che ciascuno di loro è rappresentativo di una famiglia di un pezzo della famiglia perché il mondo paralimpio il comitato paralimpio è una grande famiglia una grande famiglia che ha un firruce che tiene unita tutta la famiglia che è la sofferenza attraverso la quale ciascuno di noi è passato perché per stare in questa famiglia siano essi i nostri genitori o i genitori dei ragazzi con ritardo cognitivo siano essi noi stessi atleti ex atleti eccetera siano dirigenti tutti siamo passati attraverso il vivere la sofferenza e vivere un movimento nel quale la sofferenza è un minimo comune denominatore ma per il quale lo sport ha rappresentato un elemento di esplosione in termini di speranza di capacità di riscatto di riapprovarsi la vita è importante e io sono l'uomo più felice di questa terra quando i miei atleti non scordano nessuno di loro nel momento in cui vengono intervistati parlano eccetera che quello che loro fanno è importante per loro perché in quel momento hanno vinto vengono attenzionati i grandi campioni ma deve essere importante per quelli che stanno in un letto di ospedale a vivere quello che loro noi abbiamo vissuto anni fa e allora lì c'è la chiusura del cerchio la grande comunità paralimpica che capisce che ciascuno di noi ha una grossa responsabilità che va oltre le nostre persone quella di far crescere questo movimento per quello che questo movimento può rappresentare per tanti ragazzi che ancora non si sono avvicinati mi auguro che ce ne siano sempre meno ma che potranno trovare in questo movimento un grande elemento di riscatto e di speranza Luca Pancalli è felicissimo è ipocondriaco non so quanto campo no scherzo però Luca Pancalli è felicissimo perché io ancora oggi quando giro le unità spinali quando parlo di queste della mia famiglia la sento dentro l'ho vissuta ho vissuto e vedere i miei atleti oggi fieri di essere atleti paralimpici vedere tutta l'attenzione che siamo riusciti a fargli dedicare non a me a me non me ne frega nulla ma vedere di essere riuscito a essere un pezzertino artefice di questa crescita di questo movimento beh qualcosa che dà senso alla vita in fondo la vita di ciascun uomo ha un senso se lascia il segno io spero con grande modestia con grande umiltà quella che ho imparato nelle piscine e sui campi di gara per una vita di aver lasciato un pezzettino di segno l'ho Grazie per la visione!